Ha l'impressione che questa nazionale ha ormai un'identità ben precisa? Beh, l'identità ce l'ha, ha la mentalità giusta, però è chiaro che dobbiamo migliorare perché siamo una squadra anche fatta di giocatori molto giovani. Abbiamo avuto delle buone risposte, sia come squadra che come singoli, insomma perché mettere insieme una squadra cambiando quasi tutto. Insomma, un po' di difficoltà li abbiamo avuto all'inizio, però poi hanno trovato le posizioni, hanno trovato la fluidità di gioco e si sono divertiti. Questo credo sia molto più importante. Domenica c'è la Polonia, che tipo di partite si aspetta? Beh, sarà una partita totalmente diversa, sono comunque in pali tre punti per il girone di Nation, sarà fuori casa, la Polonia è un'ottima squadra, quindi sarà una partita un po' diversa. Prima da capitano, prima doppietta nazionale, che emozione hai provato? Sicuramente una soddisfazione veramente immensa. Indossare la fascia di capitano della Maglia Azzurra è sicuramente un sogno, un motivo di grande orgoglio. Aver fatto anche una doppietta, che mi è costata mezza faccia, però sono sicuramente molto contento, molto felice. Quindi una serata molto speciale. Sono sicuramente emozioni indescrivibili, perché solo chi fa questo lavoro, chi pratica questo sport, può capire. Io era un sogno che avevo da bambino, oggi posso dire di averlo realizzato. Sono contento, perché è un sogno di tante persone che mi sono state vicine, di tante persone che hanno creduto sempre in me, dalla mia famiglia, da mia moglie, i miei figli, tutte le persone che mi vogliono bene. Io sono contento di aver regalato questa piccola emozione a loro, perché so cosa fanno per me e devo solo ringraziarli. È un'emozione grande, indossare questa maglia sembra emozionante. Devo dire che mi ha fatto un'ottima partita, abbiamo continuato il lavoro fatto in questi mesi, abbiamo tenuto la mentalità giusta e abbiamo portato a casa questa vittoria che era importante anche per il raking. Belle sensazioni, è sempre piacere venire nazionale, fare bene, vincere, che era la cosa più importante, quando si vince poi va tutto bene. Hai l'impressione che cambiano i giocatori, però ormai quest'Italia ha un'identità precisa? Sì, sicuramente il mister è stato bravissimo a metterci questa identità, questa voglia di tenere la palla, di andare a prendere le squadre alte e poi con questa voglia diventa tutto più facile.